tra poco in via giovanni ventitresimo nelle palazzine di via giovanni ventitresimo accadrà qualcosa nel senso che i residenti sono stati chiamati dalla ditta e non dall'ater per consegnare le chiavi perché queste palazzine dovranno essere abbattute sì dovrebbe essere abbattute però quello che risulta che c'è un abbattimento parziale non totale noi non riusciamo a capire il motivo perché questi abbattimenti sono parziali non c'è un progetto per farlo definitiva non lo sappiamo l'unica cosa che noi lamentiamo è come fa la ditta gli architetti non sappiamo chi ci chiama veniamo contattata da persone una volta da una persona una volta da un altro una volta da un altro e non sappiamo che chi chi sono questo noi stiamo preparando già un esposto alla magistratura per diffusione dei nostri dati questo non ci pioca intanto oggi residenti diranno no alla consegna delle chiavi sì molto probabilmente tanti sì ci sono tanti che ne hanno usufruito determinate condizioni consegneranno le chiavi le persone anziane forse chi è morto che poi ci sono tanti stati tanti già morti persone morte non lo so che cosa va a finire che cosa succede forse perché una cosa brutta si voterà in questo periodo c'è la campagna elettorale appartamento pieno la chiappa la roba dove la porta qua in mezzo alla piazza ecco noi ci abbiamo brava abbiamo la carta di sgombero io guardo sono disarmato proprio momento tengo 80 anni ma mai è successo una cosa del genere che io vivevo in una nazione di gente fatta così che magari eravamo gli italiani un popolo veramente no invece mi sono accorto noi che dicono che li devono abbattere praticamente a noi ci hanno ci hanno contattato non l'atera ma roba di architetti dell'imbraio non lo so che chi sono ma li vediamo che viene vedere non lo so chi sono l'atera a me non mi ha tra non mi ha contattato niente a nessuna contattato l'atera che l'atera sono diciamo i nostri gestori delle case quindi voi oggi dovreste riconsegnare delle chiavi no questa ditta noi le chiave la etna noi le chiave anche togliere i mobili no oggi dobbiamo fare tutto qua dobbiamo consegnare le chiave dobbiamo tutto dobbiamo fare noi siamo degli spaziali e oggi dobbiamo fare tutto a nome di chi noi io non li conosco a me mi ha telefonato un architetto educatissima per l'amore di dio tutta educata tutta cosa però io non la conosco io non lo so io con lei non c'ho niente a che fare io non sto in affitto con lei io sono affitto con l'atera e a me mi da le disposizioni gente che io non conosco io sono affitto con lei